Ben fatto, comandante. Grazie alla tua abilità sul campo di battaglia, la ribellione è ormai quasi completamente sedata. C'è solo un ultimo shogun che ancora non si è arreso. Takara sta pianificando un massiccio attacco al trono. Devi fermarla a tutti i costi. So che i tuoi uomini sono stanchi e i tuoi mezzi hanno ormai raggiunto il limite, ma è l'ultima occasione per impedire che la regione piombi nel caos. Tatsu ti fornirà tutti i dettagli. Buona fortuna. Occupatene subito. Comandante, Takara sa ispirare profondamente i suoi uomini, ma non le importa nulla dell'impero. Ha già messo la sua gente contro di me. Se la corruzione si diffonde, tutto ciò per cui mio padre ha combattuto andrà in fumo. I suoi samurai morirebbero per lei. Concedi loro questo onore. Nessuna pietà, comandante. Uccidili tutti. Takara, comandante imperiale ribelle, si è trincerata con le forze rimanenti presso Miyako. Deve essere neutralizzata. L'imperatore Tatsu e il comando alleato reputano che questo fermerà la ribellione. Quindi penetra le difese di Takara con il veicolo di costruzione mobile. Sconfiggi Takara e le sue forze ribelli. Le forze fedeli a Tatsu ti aiuteranno a raggiungere l'obiettivo. Quest'operazione dovrebbe soffocare la rivolta nell'impero del sollevante. Prudenza e in bocca al lupo. Questa terra è controllata da Takara. È giovane ma ha combattuto molte battaglie. Probabilmente ha saputo della sconfitta di Shinzo e Kenji. Quindi fai attenzione. Potrebbe aver preparato delle trappole. Abbiamo una nuova arma che può aiutarti. Si chiama Pacificatore. Ma non farti ingannare dal nome. Scatenerà un'intensa pioggia di fuoco sulle postazioni nemiche. Io adoro l'inverno. Che aria prongente, eh? Pacificatore, stiamo arrivando. Pronti all'azione. Dobbiamo essere cauti. Io adoro l'inverno. Sistemeremo tutto. Ponte freddo in arrivo. Cristallino, non muoverti. Sono nostri. Calmi. Pacificatore. Le sistemeremo. Di nuovo. Si fa festa. Nessun problema. Spaziamoli via. Li troveremo. Sono nei guai qui. Nessun problema. Sistemeremo tutto. Non è finita. Tutto questo finirà. Stiamo arrivando. Calmi, genuario. Non servono più attenzione qui. Preparare aria. Si calmeranno. Porta il tuo veicolo di costruzione su una delle linee di schieramento al prima possibile. Procedi con cautela. Una bella statua di ghiaccio? Li sistemeremo. Base nemica individuata. Adesso nemica. Accendete la ghiacciaia. Vediamoci da fare. Un caso d'attacco. Fammi rompere il ghiaccio. Sorgelliamo tutto. Dritto nella cella frigorifera. Va bene. De-freeze. Palanga in arrivo. Non muoverti. Che aria pungente, eh? Si calmeranno. Sì, signore. Spaziamoli via. Riposizionarsi. Li troveremo. Andiamo. Il prossimo. Procediamo. Nuovo di costruzione. Costruzione. Pacificatore. Questo andrà bene. Faresti meglio sbrigarti. Io non aspetto nessuno. Ora. Eliminateli. Costruzione completata. Stiamo arrivando. Nuovo obiettivo. Nuove opzioni di costruzione. Nuovo obiettivo bonus ricevuto. Costruzione. Addestramento. Pacificatore. Li troverete. Ciavellotto qui. Nessun problema. Costruzione completata. Ciavellotto qui. Nuove opzioni di costruzione. Ciavellotto qui. Non è finita. Ovviamente. Unità nemiche individuate. Ciavellotto qui. Grande. Non vinceranno. Sì, signore. Dov'è il problema? Procediamo. Piegatele, Ciavellotto. Dakara sta cercando di circondare il tuo campione. Evita che quei nano nuclei si configurino. O ritirati se necessario. Sì, signore. Dov'è il problema? Non è finita. Ciavellotto pronto. Unità speciale. Signore, dov'è il problema? In posizione. Dobbiamo essere cauti. Li troveremo. Signore, dov'è il problema? Eccomi. In marcia. Li sistemeremo. Di nuovo. In attesa. Unità tattica. Unità speciale. Unità speciale. Sempre puntuale. Stiamo arrivando. Tutto a posto. Eccone uno. Unità speciale. Pronti. Ciavellotto pronto. Sempre puntuale. Attrezzi pronti. Costruzione completata. Ruove opzioni di costruzione. Costruzione. Prospettore a rapporto. Unità nemiche individuale. Dimmi, mister. Cryo shop pronto. Costruzione completata. Mi hanno colpito. Manteniamo la pace. Prospettore a rapporto. In marcia. Dobbiamo essere cauti. Stiamo arrivando. Procediamo. Dimmi. Costruzione. Una situazione. Sì. Costruzione completata. Vengo la tua attenzione al servizio. Preparazione. Geniere pronto. Non parò. Unità speciale. 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 Unità sotto attacco Grazie per la pazienza So fare tutto Eccolo Andiamoci una volta Obiettivo bonus raggiunto Unità sotto attacco Costruzione completata La nostra base è sotto attacco Veicolo in costruzione al servizio Prospettore all'apporto Pronti ad azione Già bellotto pronto E vai, sì Riparazione Fino in fondo Colpiamo duro Restricceteli Ecco l'ave maria Già bellotto qui Tenete paura Ne ho molti altri Teneteli sotto pressione Già bellotto qui Dov'è il supporto? La nostra base è sotto attacco Tutto questo finirà Sono la strano Sistemeremo tutto Già bellotto qui Costruzione Già bellotto qui Nessun problema Pronti al fuoco Dimmi mi Già bellotto qui Andiamo Andiamo Diamoci una mossa Costruzione Già bellotto qui Unità nemiche Individuate Costruzione completata È solo l'inizio Insetti Costruzione completata Sono completo Potenziamento completato Potenziamento completato Costruzione Costruzione Facificatore Scatina Scatina Unità sotto passaggio Costruzione completata Costruzione Si calmeranno Preparare l'assalto Costruzione completata Costruzione Addestramento È l'ora Non assistono Sono deboli Prossima partita Ci sono Già bellotto qui Nuove opzioni di costruzione Costruzione completata Costruzione Costruzione Unità sotto passaggio Sfira l'olfato Sub completo Costruzione 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 La nostra base è sotto attacco Costruzione Sfira Sfira l'olfato Sfira la sua base Sfira 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 Tecnologia avanzata autorizzata. Non mettermi alla prova. È tutto. Unità sotto attacco. Veicolo di costruzione al servizio. Nuove opzioni di costruzione. Costruzione. Servizie di costruzione. Richievuto. Preparazione. Allerta. Base nemica individuata. Addestramento. Costruzione completata. Giavellotto qui. Nuove opzioni di costruzione. Costruzione. Ehi! Giavellotto qui. Prossima partita. Costruzione. Costruzione completata. Costruzione. Riparazione. Costruzione completata. Costruzione. 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 Adesso diamo cilindro. Adesso diamo cilindro. Costruzione completata. Punti insufficienti. Costruzione completata. Costruzione. Costruzione in corso. Costruzione completata. Giavellotto, tenetevi sotto pressione. Slota nemica rilevata, ti consigliamo di affrontare difese antiaeree. Takara può attaccare da qualunque direzione. Nessun problema. Unità potente. Non è finita. Non ti ho perso. Sistemeremo tutto. Il prossimo. Unità speciale. Unità sufficienti. Caccia a pollo pronto. Modificare la rotta. Si calmeranno. Ordine. È nel mio spazio. Sono deboli. Potenzione. Salve. Siamoci dentro. Sono concentrato. Regione. Ordine su stessenti. Caccia a pollo pronto. Modificare la rotta. Unità sotto attacco. Si torna a casa. Che c'è? Adesso lo facciamo di vita. Non mettono la leva. Tutto a posto. Grande. Nessun problema. È solo l'inizio. Adesso è stato cambiato. Nuovo il segno di costruzione. Costruzione. Facificatore. Oddio. Sono completo. Qui a pollo. Non vinceranno. Costruzione. Unità sotto attacco. Insetti. Sono nostri. Li troveremo. Seleziona obiettivo. Nessun problema. Si calmeranno. Nuove opzioni di costruzione. Potenzialmente completate. Costruzione. Bondi insufficienti. Li sistemeremo. Addestramento. Dimmi mister. Ci sono. Giabellotto. Ok mister. Giabellotto pronto. Bischi per pronto al contatto. Unità sotto attacco. Unità antattica. Eccolo. Fallo. Trituriamoli. Bondi insufficienti. Dobbiamo essere cauti. Andiamo. Arriva l'era glaciale. Adesso nevica. Costruzione. Eccomi. Li sistemeremo. Non metterli alla prova. Unità sotto attacco. Settazione completata. Unità per S. È tutto. Costruzione in corso. Costruzione completata. Costruzione in corso. Bondi insufficienti. Costruzione. Allerta. Inesorabile. Bondi insufficienti. Il filtratore nemico individuato. È l'ora. Cosa c'è lì? Costruzione completata. Construzione. Cryo shift pronto. Costruzione completata. Costruzione. Costruzione. Costruzione completata. Costruzione completata. Stang 702. Costruzione, costruzione, via Bollo Seleziona area del saglio, fondi insustitenti Sono pronto Ricevuto Vediamo che stanno a fare Ricevuto Base di unica individuata Si gioca Passerla Andiamo Foto che c'è Bombardiere, tutto pronto Ci sono ordini? Infiltratore di unico individuato La nostra base è sotto attacco Fondi insufficienti Fondi insufficienti Bombardiere, tutto pronto Unità sotto attacco Si può fare Si vuoi a bollo Bistkeeper pronto a contatto In posizione La situazione? Unità speciale Controllo la zona Tutto pronto Liniero in esaurimento Allora, tutti pronti? Ricevuto Fondi insufficienti Infiltratore di unico individuato Costruzione La nostra base è sotto attacco Ci sono ordini Agli ordini Sono deboli Eccomi Serve un miraggio Fermo lì Attendiamo ordini Cronosfera pronta Sì Eccomi Ok Sono pronto Ricevuto Ci sono ordini? Sì Dove ti pare? Va bene Si batte Guarda qua Via col fuoco Guarda qua Cadono a pezzi Certo Ha ha La fine si avvicina Chi manca? Ok Guarda qua Adoro questa musica Ok Ci stiamo surriscaldando Ci sto Chi manca? Che avranno in mente? Guarda qua Cadono a pezzi Ok Via libera Guarda qua Adoro questa musica Certo Perfetto direi Andiamo Mosca fastidiosa Guarda qua Ok Andiamo a vedere Cadono a pezzi Guarda qua Via Voce a basso C'è il suo problema Sì signore Dov'è il problema? I cieli sono nostri Sì signore Dov'è il problema? Costruzione Pronti a dargli le cattive notizie? Basta una parola Atterriamo Sì signore Si gioca Dov'è il problema? Si torna a casa C'è qualcosa per me? Sì signore Dov'è il problema? In attesa Eccomi In marcia Pronta Pronta e carica C'è qualcosa per me? Ondi insufficenti Ordini Allora Tutti pronti? Ci sto Arriva l'era glaciale In attesa Annullato Ci sono ordini? Ordini Siamo in scia Albinger pronto Ondi insufficenti Sì Dove ti pare? Pronti a dargli le cattive notizie? Caccia a pollo pronto Ci sono ordini? Ondi insufficenti Si può fare Ok Via libera Via la spazzatura Pronti a dargli le cattive notizie? Mosca fastidiosa Guarda qua Via la spazzatura Mosca fastidiosa Ah Ce n'è per tutti Via col fuoco Cadono a pezzi Oh sì Hai visto? Va bene Che avranno in mente laggiù? Ok Si è finito Certo Sì Ci muoviamo Ah Ce n'è per tutti Unità sotto accanto Questa una parola Che avranno in mente laggiù? Via col fuoco Ok Mosca fastidiosa Mosca fastidiosa Mosca fastidiosa Dopo ad azione Quale è il programma? In attesa di ordini Perfetto Direi Ci sto In attesa Annoi Si può fare Cadono a pezzi Che avranno in mente laggiù? Guarda qua Ricevuto Ok Andiamo Ah Ce n'è per tutti Caccia a pollo pronto Perfetto direi Cadono a pezzi Oh sì Hai visto? Mosca fastidiosa Guarda qua Via col fuoco Si parte Guarda qua Accesso al satellite Base unità individuata Addestramente Tirano fuori le balle Perfetto direi Ah Ce n'è per tutti Quasi finito Agli ordini Ok Via col fuoco Ok Cadono a pezzi Guarda qua Sontogliamo il nemico Via la spazzatura Guarda qua Cadono a pezzi Ciabellotto qui Bene Grazie davvero Ora mi toccherà cambiare tutti i miei piani Motori eccedi Obiettivo raggiunto Ciabellotto qui Ciabellotto qui Campo di battaglia ampliato Bondi insufficienti L'impero ti è debitore Comandante Perché hai spianato la strada all'incoronazione Di un nuovo imperatore L'imperatore Tatsu Ora con le truppe che hai requisito ai signori della guerra Caccerò te e tutti gli alleati dal Giappone Ancora una volta Noi saremo l'unico vero impero predestinato Allora tutti pronti Ricevuto Mi dispiace comandante Servivano informazioni più accurate sui piani di Tatsu Sei di nuovo nell'occhio del ciclone Devi fermarlo prima che la situazione ci sfugga di mano Sì, eccomi Ok, via libera La nostra base è sotto attacco Miniera esaurita Nuovi inutile Pronti a dargli le cattive notizie Captate intense fluttuazioni energetiche I dati indicano che Tatsu ha attivato una nuova arma Chiamata Giga Fortezza Stai in guardia comandante Sì, dove ti pare? Ehi, ci sparano addosso Seleziona obiettivi Sì, eccomi Perfetto direi Ci può fare Guarda qua Questo è mio Che è qui Mi sono preso la libertà di requisire la tua cronosfera Mi sarà senza dubbio molto utile Qui Tania, pronta a partire Ci sono Il nostro cantiere è sotto attacco Costruzione Unità sotto attacco Sì, ciao, ciao Carro gardiano pronto a partire Questo è il nostro cantiere è sotto attacco Ci sono ordini? Annullato Sì, dove ti pare? Allora, tutti pronti? Ehi, mi piace Carbinger pronto Ok, andiamo a vedere Mosca fastidiosa Cadono a pezzi Via la spazzatura Guarda qua Unità sotto attacco Ci stiamo surriscaldato Via la spazzatura Ok Ok, via libero Ecco qui la rete Io adoro l'inverno C'è il mio progetto Un po' di nefigerio? Miniero in esaurimento Oh, già lo preso Si parte Attacco C'è un po' di caos Siamo in scia Seleziona obiettivo La nostra base è superfaccia Sangue freddo C'è un regionale Sei un po' freddo O lo sono l'arriere? Nessun problema Ah, così presto In attesa Che freddo volare Blocco coordinate Si fa festa Mio spazio aereo Chi c'è? Pronte freddo In arrivo Sei un po' freddo O lo sono l'arriere? Si fa festa Cristallino Rinfrescati le idee Ecco la mia scultura di ghiaccio Collegamento Unità sotto attacco Unità persa Fondi insufficienti Dobbiamo fermarli Seleziona aereo del caglio Buone notizie Sono pronto Crying shot pronto Dimensione Qualcosa di interessante Qui a fondo Fotori accesi Incelizzano Sono pronti Agli ordini Fondi insufficienti Oh sì Hai visto? Adoro questa musica Va bene Ci sono ordini Si gioca Accelta Un minuto Sopo gli ordini Via col fuoco Obiettivo raggiunto Adoro questa musica Certo Il cielo è splendido Andiamo No Il sogno di mio padre Il destino del Giappone Avevo preparato tutto Questione compiuta Sono felice di vederti tutto intero Tatsu ci ha colti del tutto di sorpresa Avremmo dovuto sospettare qualche cosa Se ce l'avesse fatta Lui avrebbe restituito all'impero La sua antica potenza bellica Ma per fortuna ha fallito E tutto grazie ai tuoi sforzi Il mondo intero ti è riconoscente Grazie comandante Grazie a tutti